L'adesione di tanti paesi stranieri a questa edizione, saluto in particolare ovviamente il Perù perché è a tutti gli effetti un paese che verrà con noi, cioè verrà con noi le esperienze di quest'anno in modo particolare. Sono anche contento che il CREA abbia realizzato in McFruit la piazza della ricerca, a dire di come il lavoro che stiamo facendo noi in termini più generali incrocia fino in fondo anche le opportunità, le necessità che la filiera esprime in particolare con McFruit.